Gli ignobel sono tutto forché una burla, anche se parlarne dopo l'annuncio dei premi Nobel può sembrarlo, ma in alcuni casi, pensate, questi riconoscimenti che vengono dati a ricerche considerate quantomeno singolari, hanno anticipato l'arrivo dei veri premi Nobel. Gli ignobel li danno a Boston, nell'aulamagna di una delle università più prestigiose al mondo, dalla TGR della Lombardia, Maxia Zandonai. Un po' l'altarino dell'ignobel, quindi c'è il trofeo che ho vinto a Boston. Sanders Theater dell'Università di Harvard. Dopo il tradizionale lancio di aeroplanini di carta, l'annuale celebrazione degli ignobel o ignobel che dir si voglia premia per la medicina il milanese Silvano Gallus. Mi sono visto attribuire l'ignobel per la medicina per le mie ricerche sulla pizza. Quattro pubblicazioni sull'associazione tra la pizza e il rischio di tumori e il rischio di malattie cardiovascolari. Nella motivazione si legge che la pizza può proteggere da malattie e morte purché fatta e mangiata in Italia. Quello che abbiamo trovato noi è che la pizza in Italia è un indicatore, quindi un marker, di una dieta salutare. Ripetere gli stessi studi che abbiamo condotto noi in Italia, in altri paesi o in altre popolazioni, potrebbe non portare agli stessi risultati. Tutto altro che un Nobel al contrario, quello nato 29 anni fa dal genio dell'ex matematico dell'MIT, Mark Abrams. È la scienza che scherza su se stessa premiando le ricerche pubblicate su seriosissime riviste scientifiche che possono far sorridere, ma che fanno anche riflettere. L'ignobel per l'economia, per esempio, è andato allo studio che confronta banconote di diversi paesi per scoprire quelle che veicolano più batteri. Nel 2000 venne premiato Andre Game per aver fatto lievitare una rana, ma dieci anni dopo il fisico vinse il Nobel, vero, per aver scoperto il grafene. Silvano Gallus, 48 anni, è il direttore del laboratorio di epidemiologia per gli stili di vita dell'Istituto Mario Negri di Milano. La sua ricerca con vari coautori è stata pubblicata qualche anno fa anche dall'International Journal of Cancer e ha coinvolto quasi 20.000 persone. Rispetto a coloro che non consumano pizza, coloro che riportavano di consumare una o più pizze alla settimana, avevano un rischio ridotto del 30% di tumore del cavorale della faringe e di tumore del colon. Si possono vedere qua le riduzioni di rischio del 40% di infarto miocardico acuto. Ad attribuire l'Ignobel tre premi Nobel veri, Rich Roberts, Eric Muskin e Jerome Friedman. Gallus ammette solo all'ultimo l'autopremio in denaro. Qua abbiamo 10 trilioni di dollari. 10 trillion dollars. 10 trillion dollars. 10 trillion dollars. 10 trillion dollars. 10 trillion dollars American dollars. Zimbabwean dollars. Ma decisamente meglio a chi vince il vero Nobel.